Stiamo ormai vicinissimi all'appuntamento rosa, ci siamo avvicinati in una maniera egregia direi, siete primi nella ciclismo cup, nella classifica del campionato italiano, ma soprattutto siete già a quota 12 successi facendo vedere che i vostri uomini sono in perfetta forma, si può dire? Assolutamente sì, anzi direi che abbiamo ottenuto risultati anche superiori alle attese. Per una squadra professional ottenere nel primo quadrimestre 12 successi è qualcosa di importante. Cosa si aspetta Gianni Savio da questo giro? Dal giro mi attendo una prova come sempre di orgoglio da parte nostra, noi abbiamo sempre onorato la Corsa Rosa, abbiamo sempre attaccato, gli attacchi che noi abbiamo fatto non erano attacchi di carattere pubblicitario, ma erano attacchi fatti per ottenere punti nella classifica di treguardi volanti oppure dei chilometri in fuga. Non dimentichiamo che lo scorso anno siamo saliti tre volte sul podio finale e poi anche per cercare di ottenere un successo con una fuga lunga gittata. Purtroppo nel ciclismo moderno è sempre più difficile, però noi ci proveremo.